Voglio andare a inviare una criptovaluta, in questo caso USDT, da Binance all'app di Crypto.com per acquistare CRO. Come faccio? Allora, visto che devo depositare USDT, vado su Deposita, Criptovaluta, vado a selezionare la valuta di mio interesse, quindi USDT, vado a selezionare la rete di riferimento sulla quale voglio mandare il mio tether di USDT, se non conosco la rete eventualmente di invio principale dell'exchange che voglio utilizzare, quindi Binance, magari non lo conosco a memoria, cosa faccio? Vado su Binance, è arrivato su questo exchange, non ho USDT all'interno del mio portafoglio, ma ho euro, quindi devo andare a convertire i miei euro in USDT. Cosa faccio? Vado su File Trading, Converti, vado a selezionare euro, seleziono la valuta di scambio, quindi in questo caso USDT, ho 48 euro da poter suappare, voglio suapparne 25, anteprima della conversione, converto e in automatico vedete che ho convertito 25 euro in 24,96 USDT. Torno nella home page, vado su Wallet, prelievo, seleziono USDT, invia tramite rete cripto, vado a vedere la cene che Binance mi permette di utilizzare per l'invio, quindi la BEP20, Ethereum, Polygon, Solana, Tezot e RC20. Torno un attimo su Crypto.com e vado a vedere che cene posso utilizzare. Posso utilizzare eventualmente Polygon, che ha delle fee molto basse, quindi copio l'indirizzo, anche qua vado a selezionare Polygon, confermo, vado a incolare l'indirizzo, seleziono il quantitativo, in questo caso massimo, clicco su prelievo e vado a inviare USDT da Binance a Crypto.com su rete Polygon. Ora che ho ricevuto i miei USDT all'interno di Crypto.com, a differenza di Binance non ha la sezione converti, quindi noi dobbiamo andare a vendere il nostro token, la nostra di criptovaluta o per euro oppure per il token che ci interessa ottenere. Ad esempio vado su Vendi, mi va a indicare le valute che ho disponibili nel portafoglio, quindi Tether. In questa sezione vedete che sotto c'è scritto Vendi 24,68 USDT, posso scegliere di venderlo in un qualsiasi token che trovo disponibile in questa lista oppure in valuta standard, ovvero euro. In questo caso mi permette di venderla direttamente per euro dell'interno del mio portafoglio euro di Crypto.com oppure sulla carta Visa di Crypto.com. Volendo vendolo per CRO, clicco su CRO, Vendi 24 USDT e vedete nel riepilogo c'è l'importo che vado a ottenere, vendendo 24,68 USDT vado a ottenere 185 cro, il tasso di cambio, la commissione 0, metodo, andranno a essere depositati nel CRO, scusate è scaduto il tempo, andranno ad essere depositati nel CRO Crypto Wallet. Diversamente volessi vendere USDT per euro, vado su valuta standard, vendi 24 USDT e andrei a ricevere 24,15 euro, il tasso di cambio, la commissione 0, metodo di ricevimento, euro, fiat, wallet.